Sono Laura Antichi, questo è un tutorial per installare Screencast Keys per Blender versione 2.79. Screencast Keys permette di visualizzare a schermo i tasti della tastiera che appremiamo nella creazione e modellazione di oggetti tridimensionali. Per la versione 2.79 è un add-on da installare in Blender dopo averlo scaricato sul proprio PC. Per prima cosa facciamo una ricerca con Google Blender Screencast Keys 2.79. E andiamo alla voce Screencast Key Status Tool Blender Wiki. Mi riporta alla pagina dove scaricare il link al add-on. Il cliccherò in Current Version Download con il destro del mouse e poi salva link con nome. Posso salvarlo in qualsiasi punto del mio PC e lo salvo sul desktop. Sul desktop creo una nuova cartella ad esempio che si chiama Screencast. Ok. Nella cartella creata salvo il mio add-on. Ok. Ok. Poi il passo successivo è di aprire Blender. Ok. In File andrò in Preferenze Utente. Ad-on. Ad-on. Utente. Ok. 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 Io l'ho già scaricato ma vi faccio vedere come si fa. Utente. install addon file e voi potete cercare il file dove l'avete salvato io l'ho salvato come avete percepito sul mio desktop quindi ho cliccato su desktop, trovo la cartella screencast blender e questo è il file che andrete ad installare che si chiama space view 3d screencast keys e dopo dovrete cliccare sul file per installarlo e installarlo in questa maniera una volta che l'avete installato salvando le impostazioni utente potete aprire la finestra laterale con il più e nella finestra laterale voi troverete screencast keys e cliccherete su start display naturalmente di default di screencast keys si posiziona sulla sinistra della finestra e potete modificare le dimensioni del metto ad esempio 80 e anche sotto facciamo 100 magari e potete modificare quindi la dimensione dell'icona e la dimensione anche del testo vediamo come funziona esempio cancello il cubo vedete che mi esce l'el inserisco ad esempio un oggetto aggiungo una mesh ad esempio un cerchio e voglio ridimensionare a questo punto il cerchio per ridimensionare il cerchio clicco ad esempio S e Tab vedete che mi ha registrato che mi ha registrato ciò che ho fatto e mi ha reso visibile il clic sui tasti posso andare nella posizione 1 in modalità modifica e operare poi con EZ vedete vedete che mi visualizza i tasti sul cerchio per costruire una sorta di cilindro di partenza buonasera